Dedichiamo questo breve servizio a un libro che ci ha molto intrigato, si tratta di Il Settimo Senso di Kurdimberger, edito da Alpine Studio, un libro freschissimo di stampa e appena tradotto in italiano. Un libro del grande Kurt che oltre a raccontare le mille avventure della sua lunghissima carriera alpinistica, dalle Alpi all'Himalaya alle altre catene montuose lontane dall'Europa, racconta una serie di fatti misteriosi che gli sono capitati durante la sua vita, eventi non facilmente spiegabili. Lui ipotizza l'esistenza di un Settimo Senso, parte descrivendo il cosiddetto Sesto Senso, quello che di solito viene associato alla premonizione e che ha permesso a tanti alpinisti famosi di cavarsela da situazioni difficili, ma parla anche di un Settimo Senso, che cos'è? È un modo di sentire, un qualcosa che ci spinge ad andare oltre, al di là di ogni ragionevolezza, riesce a mettere a tacere il Sesto Senso, è quello che gli alpinisti comunemente chiamano stato di grazia, una sicurezza totale in se stessi che ci dice che in certe occasioni si può rischiare e si può arrivare in vetta contro ogni apparenza e di solito si riesce davvero ad arrivare in vetta. Qualcosa di misterioso, il nostro corpo, la nostra psiche, la nostra mente riescono a captare una serie di segnali che razionalmente non sono visibili e ci dà delle risposte importanti. Kurt preferisce interrogarsi anziché dare spiegazioni ricorrendo magari al linguaggio della parapsicologia e in questo rivela un grande senso di umiltà, soprattutto dall'alto della sua straordinaria carriera. È un libro che si legge benissimo, Kurt è bravissimo con la penna, adesso usa anche il computer, non semplicemente la penna, ma ricama sulle parole, ricama sul senso delle frasi, è un abilissimo scrittore e questo è un libro davvero avvincente.